wow mini m4 uno sull'altro wow l'm4 se lo odi l'm16 scusa no l'm4 no ma io non l'odio l'm4 è che però porca puttana non fa cazzo di danni merda da vicino è buono ma da lontano non serve un cazzo qua c'è una cappa pure ma non lo prendo la prima volta che non trovo il coso qua il car ti sputavi in occhio porca stavi a torre annunziata stavi vedendo il film a torre annunziata ma finalmente non hai trovato il car però forse si ho trovato un silenziatore per le armi air cazzo di culo che c'hai oh e anche l'sk rufy questo il car lo faccio io rufy questo fa invidia a me rufy arriva una macchina uno da me uno da me il perotto l'ottoperro ferito il car eh resisti sto in attimo facendo rifornimento resisti c'è un belicolo qua rega uno ne ha ucciso ma vedi che c'ha pure gli amici eh no non c'erano gli altri erano da solo eh ma ora arrivano eh lo so infatti sento già un'altra auto la madonna che c'è stato io ho già un otto per comunque a me servirebbe una cazzo di borsa non serve tutto chi che spara? mi sparano da dove? eh non ho capito scendono a mirini porca miseria un mirino per aiutare il mio amichetto credo di essere morto un mirino per aiutare il mio amichetto ehm nel metto altre eh va bene però vorrei un mirino per aiutare il mio amichetto pensa che è sotto di me qua non c'è proprio cure sono proprio a zero vita ce la fa venire da me io c'ho un no perché mi sparavano appena dalle scale giù finchè un mirino non ti posso aiutare altri colpi per che schifo è che non trova manco uno zaino porca put ah sotto di me c'è uno sotto di me c'è uno raga ma che schifo è ti sperava da oh porca miseria finalmente qua c'era un cicco arrivo ragazzi arrivo eh a me serve una mano eh vieni dove stai eh prova a darti una mano dove è? ah sei sulla torre mi puoi due mezzo e uno eh mi posso dare un botto di log sulla torre non ti posso aiutare allora aspetta non ti mi dita mai che c'è uno no che lag mi stavo per buttare giù la torre per il log mi serve allora veramente un mirino se no non ti posso aiutare io ce l'ho al per due eh ho capito ma stai lontano io ce l'ho all'otto per tu quell'otto per da lontano lo puoi aiutare a lui ho all'otto per il carro ho entrato manco un cazzo di reddotto inchietto per le carri poi se no io conosco ma è che tu dove sei? ah stai vicino meno male allora voladi ha detto che sotto casa tua c'era qualcuno? si qua accanto a casa mia vivi io e pure? si ho un first aid io pure dei pin killer si è riuscito a scappare da lì ragazzi se tu dici cap era il a pompa no? si è il fucile a pompa automatico non siamo neanche distanti sulla safe andiamo tutto a sinistra sui costi e siamo in safe te lo lascio vicino a sta statua il first aid ok ah ti devo lasciare io roba aspetta chi è? tieni non so sei tu vedi quello che preferis no il compensato te lo puoi tenere ok tieni attenti a questo per il tuo SKS no io non ce l'ho non ho trovato manco per me no ce l'avevo già quello se vuoi tenetelo aiutiamo vladi ha detto che sotto casa sua c'era gente non sotto casa mia c'è accanto lo vedete con l'inmezzo ecco là c'era qualcuno mi serve una pettorina è un cazzo di merino mi serve un cazzo di merino vedo se lo trovo ah qua c'è un cover 4 oh dove diamo un cuoco è mia è mia però so Mike Mike dammi il per 4 dai c'è il SKPS please vabbè ti do il per 2 se lo vuoi cioè non sono mi fata ammazzare poi mi tieni il per 2 te l'ho lasciato che armi hai tu Mike? WMP? WMP e Tommy vieni qua vieni vieni con me prenditi lo Scarella da qua Mike e non dire che non ti vogliamo bene vieni qua guarda che regalo ti faccio comunque raga in questa qua lo vedete qua quanti 5,56 hai in mano Mike? 5,56 hai nessuno eh vieni qua che c'è lo Scarella vieni da me vieni da me vieni da me vieni da lo Scarella qua qua dove sto io eh da Mike vieni qua ah forse l'ho visto sulla torre io mi prendi i colpi quando ti metto il punto quando ti devo pire lo Scarella scusa togli Fabiana un'arma decente qua sta c'è un mano qua accanto ah aspetta Mike ti devo dare una cosa ragazzi entriamo oh ma non mi lasciate da solo dove stanno questi che state sparando ma stiamo sparando davanti a 2,10 tipo dove c'è la V Mike Mike fermo fermo dove c'è la SV ok ti devo dare questo tieni tieni fermo stop dovremmo andarcene prendi 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 ma sta qualcuno in sta casa è qua 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 ma è su? è sopra sul tetto sali sali si è buttato aspetta si è buttato levati levati che si è buttato eccolo là lo vedi d'accordo ma mia ma ecco che disturbatore che sei non lo faccio a me serve un'arma non è che hai detto aiuti non è che dici spot tu spostati quindi io mi tipo l'avete ucciso dove è morto l'avete ucciso? si ecco non fate casino cazzo ah non c'è un cazzo sono i mini sono i mini troviamo ecco l'auto ragazzi andiamocene c'è l'auto qui venite via venite via andiamo sulla costa sono due macchini ah vivi vedi dove ti ho pingato andiamo verso lì se sei d'accordo perché là dovrebbe esserci una barca così possiamo speriamo se no siamo fottuti eh proviamo lì tanto inseriti prendete anche l'uazi vai non lasciamo nulla a questo niente io ho solo un 2x mi serve è un punto verde quindi cancella cancella di punti fossi lasciate solo il verde il punto rosso va per me perché io c'è colori diversi vai mike corri vai vai prendigli pure questa prendila prendila non gli lasciare nulla a questo in base scendi scendi vai ok ops scusa venga venga verde devono fare in ganna non devono trovare neanche una macchina se la devono fare a piedi proprio da infami dove esatto oddio in tre siamo tre macchine no non so guidare il sesto gioco costano medino la costa ragazzi perché non ci indirizziamo verso qua e con la barca possiamo andare lì se c'è la barca queste case sono chiuse no ce ne dobbiamo andare sono aperte sono aperte sono aperte quindi non c'è barca qui cazzo passiamo del ponte eccola eccola la barca c'è una auto in mezzo c'è c'è la barca c'è la barca qua qua venite da me spaccate le ruote le auto se ci riuscite io vado me la butto oh aspetta qua mi buttate sotto attenzione ma è una barca no non vi buttate in auto è una macchina prendi la macchina vieni ma è una macchina vaffanculo sembrava una no cacca come hai fatto a scambiare eh da lontano sembrava una barca guido io? viene si passiamo dal ponte da qua quanti problemi vabbè almeno per questo safe per questa per questo apelizzo in semi safe io che v'ho detto abbiamo passato a forza per il porto stanno i cinesi sotto casa tua what? che cazzo fanno i cinesi sotto casa tua andiamo nella parte più costosa prima sc il porto il porto è troppo in alto regalo secondo che faccio il piano è mai centro safe anche se è troppo in alto poi il fuel metti il fuel moriremo preparate aspettateci prendi la penta aspetta aspetta eh mi stavo bevendo un energy ma vabbè vabbè cinque cinquantasi ottimo non passate il ponte della morte da soli ma non è un ponte della morte dai non è il ponte dei posti di blocco e li investiamo dai dai veloce Mike ci sta attaccando a nessuno quindi sembra libero che buono no ecco qui c'è un'auto oh scampata eccoli li vede via uno è investito la ferita uno è investito vieni 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 si fottano vai 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 Mike vai Mike ah uno l'avevo investito raga raga eviterei di andare a Primosco andiamo a sto punto giallo ok due investiti di là grandi scarsi che non sanno fare neanche il posto di blocco non andiamo nel punto giallo o con la rossa giallo giallo ok ok lo speriamo lo speriamo lo speriamo lo speriamo fate larghi fate larghi da ste case che sono aperte bella superata madò abbiamo finito il fuel è finito? è anche io più o meno sono poco salite da me salite da me fermatevi qua salite da me no no noi ce n'abbiamo noi ce n'abbiamo aspetta io non ho pure guarda che è morto ma per primo guarda ma perché sei stato fermo? puoi diventare avanti perché voi siete fermati e sono fermato pure io ma ma vi cccate tutti eh andate nel punto rossa questo sai come si chiama Mike? pan per focaccia no si chiama anche karma ma c'ho fame aspetta e piede è una pizza fatte una pizza Eh, ma è tardi, non penso che nessuno mi risponda, mi manda una colpa di... Ma perché siamo andati a Primosk? Appunto già l'avevo detto, cazzo. Eh, togliete il rosso, per me non ci faccio un po' già. Perché bullizzi Primosk? Primosk. Perché Primosk è piena di gente, non la senti? Eh ma, ma qua non mi piace tutto, perché togliamo. Ragazzi, vi volevo informare che le donazioni fatte a Vivi Sector Twitch andranno per l'apertura di una nuova pizzeria. Vivi? Solo un SKS, voi avete le armi? Sì, io ce l'ho. Lo sai che siamo super mega vulnerabili? Io ho solo cecchino, quindi, buono. Qua si lutta bene, queste zone quante, per qua. Tutto è buono. Abbiamo sbagliato case da luttare. Eh, lo so, voglio vedere se qua ci sta da luttare, perché qua pure c'è roba buona. E' moto. La moto è di spawn. Oh, raga, raga, madonna, sei un folle. Siamo dei folli. Ok, non sono luttate. C'è un drop. C'è un drop in mezzo al mare, raga, vuoi sapere? Eh, andiamo a prenderlo. No, è lontanissimo, è lontanissimo, secondo me è anche fuori safe. Quindi lontano, fuori safe e in mezzo al mare, buono. Manco da avere una barca. Io non c'ho la pettorina, re. Si chiama Polis Vest. E' più bello pettorino. Ancora che volete un quattro perro? Ciao ragazzoni, mi dispiace per la musica, cioè dovrebbe apparire dopo. Se volete un quattro perro... Qualcuno ha bisogno di un mirino. C'era dopo il tuo brano, dopo di quello là. Cioè, la prossima morte c'era il tuo brano, l'avresti ascoltato. Mi dispiace. Prova è bene, buonanotte, basta. Ti serve un mirino? Facendo la testa di Michele. Un quattro perro. Che ti serve? Un mirino questo per caso. No, ce l'ho, ce l'ho. Ok. Per compensare. Se avete bisogno di quattro perro andate nel punto con me. No, no, io ce l'ho, ce l'ho. Io l'ho da prendere il quattro perro. A me serve il gibbottino. Dov'è del quattro perro? No, guarda, non il punto l'ho messo. Punto rosso? Oh, buono. Sì. Andiamo con le case che hai pingato prima, Vivi. Avete 5586? 556 no. Dove cazzo sei il quattro perro? Ah, la quattro perro. No, non l'hai trovato. Sono gioco di merda. Anche un ping decente se non fa. Una domanda? Oh. Quale? Con una padella posso distruggere la ruota di un veicot? Sì. Però non la distrugge che a me ci serve. Eh no, è quella della moto. No, no. La moto non si distrugge, quindi lascia sta. Raga? Andiamo via, dai, andiamo via. Andiamo a piedi. Punto che ho messo io. Andiamo a piedi? Sì, andiamo a piedi a casa gialla. Spara o non si è stato do... Io ho sparato. Ho bucato la ruota da notte. Non farlo mai più, per favore. No, è che serve. Così non ho fatto la nostra bellissima macchina gialla. Che non useremo mai più. Macchina gialla, datesi tutti a pugni. Quelle montagne vicino al punto giallo sono bellissime. Con i energy drink, capite? Sì. Ve ne pagare uno. E un potere darti pure un penkiller, quale ne ha di più. Io c'ho zero, cioè sono festeggi. Ti do il penkiller che ti dà di più. Io c'ho messo. Io non ti basta. Poi da schifo, sono messo. Aspetta, aspetta, farmi un cibo, ridere il penkiller. Dammi, grazie. Questo lo recuperi tutto, con l'energy drink ti metti un po'. Aspettiamolo, si sta prendendo il penkiller. Mi serve anche la corazzina. La corazzina la dovresti trovare subito qua. Dovrei. Ci sta un energy qua pure in casa, se vi sia. 7,62 colpi nel bagno. A me sa che uno, 7. Un altro first aid, se lo vuoi, lo puoi prendere, che ce l'hai. Energy sta appena entrare, l'hai preso, vicino allo zaino. Qua sta la pettorina. La pettorina. L'energy, taglielo, che non ne ha. Eh, l'ho droppato. Dove è la pettorina? Sta nella stanza sotto. Oh, ok. Che se. Sono tu spari. Mi piace pettorina, pure a me. Bello, subito, polis, ben polis. Pettorina, subito lo dici. Ragazzi, stiamo in questa casa a due piani, dai. Un attimo. Ci andiamo sulle montagne. La KM, la KM è meglio dell'M4-16. Eh, la K? La K è meglio dell'M4. Fa più male. Fa più male, però ha più rinculo. Secondo me... Ragazzi, mettiamoci qua. Uh, c'è il drop davanti a me. Venite qua, venite qua. Dov'è? Arrivo, arrivo. Sai, c'è un'arma con il drop? Eh, è un po' lontanuccio. Dov'è? Eh, in mezzo al parato. No, ok, hai visto, hai visto. C'è pure un bel po' di... Quanto non vuole una Jainal 2? Ce l'ho Jainal. Allora, raga, mettiamoci... Mettiamoci qua, più o meno. Ah, ma qua... No, no, è qua davanti sulla macchina, Vivi. Qua c'è l'air draw. Andiamo a se ci vengono un Jainal 2. Ma qua? Facciamo. E quale è il drop accanto? È dietro questa collinetta. Ma raga, se ci viene qualcuno da dietro... Andiamoci a morire. Ormai Diabolic si è lanciato. Sì, ho fame di... In caso, a vedere qualche padella in più. Eh, anche di qua dobbiamo andare, tra l'altro. No, non c'è la padella. Possiamo prenderlo, regà. Che è la zona che è morto? Ah, indovina. Mike. Che ci stava? Oh, MK. Uh, lo prendi tu? Sì, ho preso. Lo metto a 3, ce l'ho. Prenditi pure lo metto a 3. L'accogli subito e andiamo subito via da qui. Subito. Andiamo, andiamo, veloce, veloce. Ti metti a posto strada facendo le robe. Comunque è meglio non andare subito, come stiamo facendo la roba. Dobbiamo vedere un po' la situazione. Come andiamo sulle case qua. Queste case qua sono buone, le gialle. Andiamo in queste quadre qua. Sì, sì. Andiamo in una casa a due piani. Questa grigia è rossa, è perfetta. Però qua non è luttato, potremmo anche luttare. È ovvio. E il metto al 2, se qualcuno non ce l'ha. No, io ce l'ho. Oh, questa è aperta. Ah no, è stata distrutta con la bocca. No, è aperta questa. Eh sì, sono luttate, raga. Qua c'è la misericordia, senza conti. State attenti, state attenti. Basta, basta, mettiamoci solo in una casa, basta. Extended AR serve a qualcuno? No. Aspetta, sto cercando di recuperare. Qualcuno ha un Extended SR? Se ho sbaglio, sento passi. È vivi, è vivi. Ok, ok. Qualcuno ha Extended SR? No, no. Resta al 2? Chi manca? Extended AR. A me, a me, a me, a me, a me, a me, a quest'al 2. Basta, non vi muovete più, basta. Aspettate un ultimo che sto... Devo guardare un po' se vengo a una versione della safe. Chi è che rompe? Io sto a sé dietro. Ma sto microfono non ti trovi? Che cazzo? Allora, io vedo se ci sono persone in ritardo d'arri che vengono dalla safe. Io copro dalla fatteria di dietro. Ok, coprite tutti una zona. Ma è buono? Non l'ho mai provata quest'arma. Sì, minchia, fa malissimo. Ah, l'MK24. 14. Però col 4x fa schifo, però. Questa è un'arma più d'assalto. Ah, quindi mi dici di usare un redotto, tipo? Non l'hai tenuto, l'SKS? No. Eh, sbagliato. Vabbè, allora usalo così. Non vedo nessuna persona indietro, comunque. Se mi dà il drop qua, è sul nulla. Venite, venite. Ok, un attimo. Togliate il punto. Non è sul nulla, è sulle paludi, vedete? Togliate i punti, Rek. Se sul nulla intendo nessuna cosa. No, stiamo facendo come prima. Non stiamo guardando intorno. Qua è buono, eh? Non lo so, però ci vengono da dietro. Tu che ne sei, però non ho visto nessuno che veniva da dietro. Allora, raga, io controllo questo lato nord-ovest. Vuoi qualcuno che controlla da dove siamo venuti noi? Tipo Stefano e Vladi si controlla il lato sinistro. Raga, siamo contro un altro team. Anzi, no. Infatti, sì, siamo 4v4. No, no, non siamo 4v4. Ci sta qualcun team spezzacchiato. Raga, allora, se vedete qualcuno, per favore, segnalatelo a me che sono silenziato. Ok. Abbiate subito, cioè, non fatevi venire subito dalla foga. Va bene, va bene. Che io silenziato li fotto, li confondo. Per favore, Stefano, tu guarda da dove siamo arrivati noi che non mi sento tanto sicuro. Dove sparavano? E' un'abbastanza lato. Mi busto un po'. Ok. Devi la mia posizione buona, secondo te. Stai giù, però, stai giù. Ah, eh. E' perfetto, questo siamo, ci abbiamo tutti gli avvaramenti per nascondirci. Che dalle case qua davanti, perché ho... Ah, sì, sì. È 195 dietro, 210, casa rossa. Eccolo. Lo prendo io, lo prendo io, non gli spara. Dov'è? È dietro di lui. L'ho visto, l'ho visto. Vabbè, sparategli, raga. Sparategli. Ce l'hai vicino? Sparai. Oddio, ho ucciso con il N-18HP. Oh, vedi che sta arrivando alla safe. Vladi, non ti metta... C'è la safe. Vieni via, ti ammazzo subito questa. Oh, ma vedi un elmetto nuovo. Eh, no. Come te lo dico? Ma questi si sparavano di qua. Questo era il singolo, quindi adesso siamo contro un timbolo. Oh, oh. Ah, buono. Sentivo spariti qua. Sentivo spariti qua. Sei left. Ok, un altro è morto. Finchia, vai, vai, sparatevi. Mentre si sparano, approfittiamo. Ah, no, si sparano loro. Andiamo, andiamo. Avete le smoke, per caso? No, non servono, non servono. Uh, eccolo dove ci possiamo mettere. Vieni, 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 vieni. Ah, no, quindi sono tutti contro, raga. Siamo contro... Sì, sì, sì. Siamo contro uno. Siamo contro uno, sì. Eccolo, l'ho visto. Fai vedere se... No, è l'ombra. Vabbè, sta qua sopra, raga. Aspettiamolo. Ah, io sentivo gli spari dietro. Io vorrei mettermi... Eccolo, l'ho visto. Nord-est, nord-est davanti a noi. No. Dov'è, dietro un albero? Casotto, dietro al casotto. Ah, eccolo. Bella. Eh, mini colpo perché l'ho massacrato di colpo. Ragazzi, hai visto, accarezzate il galletto. Ha funzionato. Accarezziamo il galletto. Accarezziamo il galletto. Accarezziamo il galletto. La prima wind di Fladean. È andata bene. Accarezziamo il galletto. Accarezzare il galletto, visto, ha portato fortuna. Diabolik. Sì, lo so. Ha fatto, ingrandiscilo di più e carezzano meglio. No, no, così va bene. Scusate, vogliamo dire che sono stato uno dei fondamentali per questa vittoria. No. Sì, sì. Senza di me, appunto... Grazie. Non si vinceva, vero? Esatto. Il mio sacrificio è stato vano. No. Ma non si vinceva, ti ho o vinceva. No. No.